Salve da Marco Calabro per conto di Cellocost.it, ci troviamo oggi a Cucuta in Colombia, quasi al confine alla frontiera con Venezuela e stiamo vedendo il Parco Santander, oggi il parco più bello che abbiamo visto in Colombia, quindi Cucuta meriterebbe la definizione di città dei parchi, perché abbiamo visto anche altri due parchi molto belli, uno è il Cristoforo Colombo, la definizione che invece si è data a Caramanga di città dei parchi. Grazie sempre per vedere i video di Cellocost.it e arrivederci al prossimo video.